Fantascienza della crudeltà. Lo spaziale di Ray Bradbury. Legge Stefano Pedron. Le luciole elettriche aleggiavano sopra i capelli scuri di mamma per illuminarle la strada. Era ferma sulla porta della sua camera da letto e mi guardava mentre io passavo nel corridoio silenzioso. Mi aiuterai a trattenerlo qui questa volta, vero? domandò. Credo di sì, dissi io. Ti prego. Le luciole gettavano mobili guizzi di luce sul suo volto pallido. Questa volta non deve andarsene. D'accordo, dissi io dopo essere rimasto lì fermo per un momento. Ma non servirà a niente, è inutile. Lei si allontanò e le luciole sui loro circuiti elettrici la seguirono svollazzando come una costellazione errante mostrandole la strada nell'oscurità. La sentì dire debolmente. Comunque dobbiamo tentare. Altre luciole mi seguirono in camera mia. Quando il peso del mio corpo interruppe un circuito nel letto, le luciole si spensero ammiccando. Era mezzanotte e mia madre e io aspettavamo al letto nelle nostre camere separate dall'oscurità. Il letto cominciò a cullarmi e a cantare. Toccai un interruttore, il canto e il dondolio cessarono. Non volevo dormire, non volevo dormire affatto. Quella notte non era diversa da mille altre della nostra vita. Vigliavamo la notte, sentivamo l'aria fresca diventare rovente, sentivamo il fuoco nel vento o vedevamo le pareti ardere d'un colore brillante per un attimo e sapevamo che il suo razzo era sopra la nostra casa. Il suo razzo e le querce ondeggiavano per lo spostamento d'aria e io rimanevo sdraiato con gli occhi spalancati e mamma rimaneva nella sua stanza. La sua voce mi giungeva attraverso il citofono. L'hai sentito? E io rispondevo. Era proprio lui. Era la nave di mio padre che passava sulla nostra città. Una piccola città dove i razzi spaziali non giungevano mai. E noi restavamo svegli per le due ore seguenti pensando. Adesso papà è atterrato a Springfield. Adesso è sulla pista. Adesso sta firmando i documenti. Adesso è sull'elicottero. Adesso è sopra il fiume sulle colline. Adesso sta facendo scendere l'elicottero nel piccolo aeroporto di Green Village. Qui. E la notte era per metà finita mentre nei nostri letti freschi mamma io ascoltavamo. Adesso sta camminando lungo Bell Street. Viene sempre a piedi. Non prende mai un tassi. Adesso attraversa il parco. Adesso gira l'angolo di Ocarst. E adesso. Alzai la testa dal guanciale. In distanza dalla strada sempre più vicini i passi. Rapidi. Decisi. Vivaci. Adesso svoltava verso casa. Saliva i gradini della veranda. E tutti e due sorridemmo nella fresca oscurità. Mamma io, quando udimmo la porta che si apriva riconoscendolo, diceva una tranquilla parola di benvenuto e si chiudeva. Tre ore dopo, girai senza far rumore la maniglia della porta della loro stanza trattenendo il respiro, in equilibrio in una oscurità grande come lo spazio tra i pianeti. Le mani protese verso la piccola valigia nera ai piedi del letto dei miei genitori. La presi. Corsi silenziosamente in camera mia pensando. Lui non me lo dirà. Lui non vuole che io sappia. E dalla valigia aperta si riversò la sua uniforme come una nebulosa nera con le stelle che scintillavano qua e là nella stoffa. Strinsi quella stoffa oscura tra le mani calde. Odoravo il pianeta Marte. Un odore di ferro. E il pianeta Venere. Un odore di edera verde. E il pianeta Mercurio. Un odore di zolfo e di fuoco. E potevo sentire l'odore della luna lattea e la durezza delle stelle. Spinsi l'uniforme in una centrifuga che avevo costruito a scuola quell'anno. La misi in moto. Presto una polvere finissima precipitò in una storta. La passai sotto un microscopio. E mentre i miei genitori dormivano ignari e mentre la nostra casa dormiva, tutti i cuochi e i servitori e i pulitori robot immersi in un torpore elettrico, io guardai le brillanti particelle di polvere meteorica, di coda di comete, di sabbia argillosa del lontano Giove, che scintillavano esse stesse come mondi, che mi attiravano giù nell'apparecchio un miliardo di miglia nello spazio ad accelerazioni terrificanti. All'alba, esausto per il mio viaggio e timoroso di venire scoperto, riportai l'uniforme chiusa nella valigia nella camera dei miei genitori. Poi dormii per svegliarmi al suono del clacson del camioncino della lavanderia secco che si era fermata nel cortile. Portarono via la scatola con l'uniforme nera. Era stato un bene che io non abbia aspettato, pensai, perché fra un'ora l'uniforme sarebbe tornata ripulita di tutto il suo destino e dei suoi viaggi. Mi riaddormentai con la piccola fiala di polvere magica nella tasca del pigiama sopra il cuore. Quando scesi, c'era papà seduto a tavola. Stava addentando un toast. Dormito bene, Doug? Disse come se fosse sempre rimasto lì, come se non fosse stato assente per tre mesi. Benissimo, dissi io. Un toast? Premette un pulsante e la tavola della colazione mi preparò quattro toast di un bruno dorato. Ricordo mio padre quel pomeriggio che scavava e scavava in giardino come un animale alla ricerca di qualcosa. Era là con le sue braccia lunghe brune che si muovevano rapidamente. Piantavano, schiacciavano, aggiustavano, tagliavano, potavano. E il suo viso bruno era sempre chino verso il suolo. Non si levava mai verso il cielo, né verso di me, né verso mamma. A meno che non ci inginocchiassimo accanto lui per sentire la terra e inumidire la stoffa delle nostre tute, per poggiare le mani nelle zolle nere senza guardare il cielo, folle e splendente. Allora lui guardava verso mamma o verso di me e ci amiccava gentilmente e continuava chinato, con il viso abbassato e il cielo gli fissava il dorso. Quella sera sedemmo sul dondolo meccanico della veranda che ci faceva oscillare e ci alitava addosso una brezza e cantava. Era estate e c'era la luna e noi bevavamo la limonata e avevamo in mano i bicchieri freschi e papà leggeva gli stereogiornali inseriti nello speciale berretto che ti mettevi in testa e che girava la pagina microscopica davanti alla lente d'ingrandimento se battevi le palpebre tre volte di seguito. Papà fumava sigarette e mi raccontava di quando lui era ragazzo nel 1997. Dopo un po' disse, come faceva sempre, perché non sei andato fuori a prendere a calci i barattoli, Doug? Io non risposi, mamma disse, ci va l'essere quando tu non sei qui. Papà mi guardò e poi per la prima volta in quel giorno guardò il cielo. Mamma lo osservava sempre quando lui guardava le stelle. Il primo giorno e la prima notte dopo essere tornato a casa non guardava molto il cielo. Pensavo a lui che curava il giardino così furiosamente con il viso quasi inchiodato alla terra, ma la seconda sera guardava un po' di più le stelle. Mamma non aveva molta paura del cielo durante il giorno, ma avrebbe voluto spegnere le stelle della notte e qualche volta mi pareva di vederla mentre cercava mentalmente l'interruttore ma non lo trovava mai. E la terza sera papà rimaneva sulla veranda fin dopo che noi eravamo pronti per andare a letto e poi sentivo mamma che lo chiamava quasi come chiamava me dalla strada qualche volta e poi sentivo papà sistemare la serratura elettronica della porta con un sospiro e al mattino dopo a colazione io abbassavo gli occhi e vedevo la valigetta nera vicino ai suoi piedi mentre lui imburrava il suo toast e mamma dormiva fino a tardi. Bene, ci vediamo Doug, diceva e ci stringevamo la mano. Fra tre mesi? Sicuro. E si avviava a piedi lungo la strada senza prendere un elicottero, una macchina o un autobus. Se ne andava a piedi con l'uniforme nascosta nella valigia sotto il braccio. Non voleva che nessuno pensasse che lui si aveva delle arie perché era uno spaziale. Poi mamma scendeva a far colazione, un solo toast asciutto circa un'ora dopo. Ma quella era la prima notte, la notte buona, e lui non guardava troppo le stelle. «Andiamo a vedere Luna Park della televisione?» dissi io. «Benissimo», disse papà. Mamma mi sorrise e corremmo in città con un elicottero e conducemmo papà da un padiglione all'altro perché tenesse il isolamente giù con noi e non guardasse altrove. E mentre ridevamo delle cose buffe e guardavamo con aria seria le cose serie, io pensavo. «Ecco, mio padre va su Saturno e su Nettuno e su Plutone, ma non mi porta mai regali. Altri ragazzi cui i padri vanno nello spazio ricevono in regalo frammenti di minerali di callisto e scheggi di meteore nero o sabbia azzurra. Ma io dovevo farmi la collezione barattando con gli altri ragazzi, sassi di marte e la sabbia di mercurio che riempivano la mia camera, dei quali papà non parlava mai. Ogni tanto, ricordai, portava qualcosa per mamma. Una volta aveva piantato dei girasoli marziani nel giardino, ma dopo un mese che lui era ripartito, i girasoli erano diventati grandissimi e mamma corse fuori un giorno e li tagliò tutti. Senza pensare, mentre ci fermavamo davanti a uno degli spettacoli tridimensionali, feci a papà la domanda che facevo sempre. Com'è là nello spazio? Mamma mi lanciò uno sguardo spaventato. Era troppo tardi. Papà rimase lì per mezzo minuto buono cercando di trovare una risposta. Poi scrollò le spalle. Era cosa più bella in tutta una vita di cose belle. Poi si controllò. Non è niente di speciale, ordinaria amministrazione. A te non piacerebbe. E mi guardò con apprensione. Ma tu ci torni sempre. Abitudine. E poi dove andrai? Non ho ancora deciso, ci penserò. Ci pensava sempre. In quei giorni i piloti spaziali erano rari e lui poteva scegliere lavorare quando ne aveva voglia. La terza notte dopo il suo ritorno a casa lo vedevi scegliere tra le stelle. Su, disse mamma. Andiamo a casa. Era ancora presto quando ritornammo a casa. Io vogli che papà indossasse la sua uniforme. Non avrei dovuto chiederlo. Questo rattristava sempre mamma. Ma non potevo farne a meno. Insistevo sebbene lui avesse sempre rifiutato. Non avevo mai visto con l'uniforme addosso. E alla fine lui disse. Va bene. Aspettammo in salotto mentre lui saliva con l'ascensore ad aria. Mamma mi guardò stordita, come se non potesse credere che suo figlio le avesse fatto una cosa simile. Io distolsi lo sguardo. Mi dispiace, dissi. Non mi sei d'aiuto, disse lei. Affatto. Un attimo dopo vi fu un sussurro nell'ascensore ad aria. Eccomi, disse papà quietamente. Lo guardammo nella sua uniforme. Era nero splendente con i bottoni d'argento e l'orlatura d'argento ai tacchi degli stivali neri. E sembrava che qualcuno avesse ritagliato le braccia, le gambe e il corpo da una nebulosa scura, attraverso la quale brillavano piccole stelle fioche. Gli aderiva addosso come un guanto aderisce a una mano lunga e sottile. Aveva odore di aria fresca e di metallo e di spazio. Aveva odore di fuoco e di tempo. Mio padre rimase ritto in mezzo alla stanza sorridendo imbarazzato. Girati, disse mamma. I suoi occhi erano lontani mentre lo guardava. Quando era lontano non parlava mai di lui. Non parlava mai d'altro che del tempo e del mio collo che aveva bisogno di essere lavato o del fatto che lei non dormiva la notte. Una volta disse che la luce era troppo forte la notte. Ma questa settimana non c'è la luna, disse io. C'è la luce delle stelle, disse lei. Io andai all'emporio e le comprai delle veneziane più scure e più verdi. Quando ero a letto la notte la sentivo abbassarle fino in fondo alla finestra. Facevano un lungo rumore frusciante. Una volta cercai di falciare il prato. No. Mamma era ritta sulla porta. Metti via il tosaerba. Così l'erba rimaneva per tre mesi senza essere tagliata. La tagliava papà quando tornava a casa. Mamma non mi lasciava fare nient'altro. Né riparare la macchina che preparava la colazione né il lettore meccanico. Teneva tutto da parte come fossero doni di Natale. E poi io vedevo papà che martellava e trafficava e sorrideva sempre sul suo lavoro e mamma sorrideva a lui felice. No. Lei non parlava mai di papà quando lui era lontano. In quanto a papà lui non faceva mai niente per cercare di mettersi in contatto con noi attraverso i milioni di miglia. Una volta aveva detto. Se vi chiamassi desidererei essere con voi. Non sarei più felice. Una volta papà mi disse. Qualche volta tua madre mi tratta come se non ci fossi. Come se fossi invisibile. Io l'avevo vista comportarsi in quel modo. Guardava oltre lui oltre le sue spalle. Gli guardava il mento o le mani ma non lo guardava mai negli occhi. Se lo guardava negli occhi i suoi si coprivano di una pellicola come quelli di un animale che stava per addormentarsi. Diceva sì al momento giusto e sorrideva. Ma sempre mezzo secondo più tardi di quanto ci si poteva aspettare. Non sono qui per lei. Diceva papà. Ma qualche altra volta lei era lì. E lui era lì per lei. E si tenevano per mano e passeggiavano attorno all'isolato e facevano corse in macchina. I capelli di mamma svollazzavano come quelli di una ragazzina. E lei disattivava tutti gli apparecchi meccanici in cucina e gli cuoceva torte, focacce e pasticcini incredibili. E lo guardava profondamente in viso e il suo sorriso era un sorriso vero. Ma al termine di quei giorni in cui papà era realmente lì per lei, lei piangeva sempre. E papà rimaneva incerto. Si guardava intorno come per cercare una spiegazione ma non la trovava mai. Papà girò lentamente su se stesso nella sua uniforme perché lo guardassimo. Girati ancora, disse mamma. La mattina dopo papà arrivò a casa di corsa con manciate di biglietti. Rose i biglietti del razzo per la California, biglietti azzurri per il Messico. Andiamo, disse. Compreremo vestiti da poco prezzo e li bruceremo quando saranno sporchi. Sentite. Prendiamo il razzo di mezzogiorno per Los Angeles, l'elicottero delle due per Santa Barbara, l'aereo delle nove per Ensenada e passeremo la notte lì. Andammo in California e su e giù per la costa del Pacifico per un giorno e mezzo. E alla fine ci fermammo sulla sabbia di Malibu per cuocere i salsicciotti la sera. Papà era sempre occupato ad ascoltare o a cantare o guardare le cose che gli stavano intorno. Si aggrappava le cose come se il mondo fosse una centrifuga che girava tanto in fretta da poterlo scagliare lontano da noi, da un momento all'altro. L'ultimo pomeriggio a Malibu mamma era in camera in albergo. Papà rimase sdraiato sulla sabbia vicino a me a lungo, nel sole caldo. Sospirò. È questo. I suoi occhi erano chiusi. Era sdraiato sul dorso e beveva al sole. Si sente la mancanza di questo. Disse. Intendeva sul razzo naturalmente. Non diceva mai il razzo. Non nominava mai il razzo e tutte le cose che non si possono avere sul razzo. Sul razzo non potevi avere il vento salmastro o un cielo azzurro o un sole giallo o la cucina di mamma. Non potevi parlare con tuo figlio a quattordicenne sul razzo. Sentiamo. Disse alla fine. E io capì che adesso avrebbe parlato, come avevamo sempre parlato, per tre ore di fila. Per tutto il pomeriggio avevamo continuato a parlottare nel sole pigro dei miei studi dei salti che riuscivo a fare, della velocità con cui nuotavo. Papà anuiva ogni volta che io parlavo e sorrideva e mi batteva leggermente la mano sul petto in segno di approvazione. Parlavamo. Non parlavamo dei razzi o dello spazio. Ma parlavamo del Messico dove eravamo venuti una volta con una vecchia macchina e delle farfalle che avevamo preso a mezzogiorno nelle foreste piovose del caldo verde Messico, quando avevamo visto centinaia di farfalle risucchiate dal nostro radiatore per morire lì battendo le ali azzurre e cremesi, frementi, bellissime e tristi. Parlavamo di queste cose invece delle cose di cui io volevo parlare. E lui mi ascoltava. Era tutto ciò che faceva, come se cercassi di saturarsi di tutti i suoni che potevo udire. Ascoltava il vento e l'oceano e la mia voce, sempre con attenzione statica, con una concentrazione che quasi escludeva i corpi fisici e serbava solo i suoni. Chiudeva gli occhi per ascoltare. Io lo vedevo ascoltare il tosaerba mentre tagliava l'erba a mano invece di usare il telecomando. E lo vedevo fiutare l'erba tagliata mentre gli pioveva addosso dietro al tosaerba come una fontana verde. Doug disse verso le cinque del pomeriggio mentre raccoglievamo gli asciugamani e ci avviavamo lungo la spiaggia sull'orlo della risacca. Voglio che tu mi faccia una promessa. Quale? Non diventare mai uno spaziale. Mi fermai. Dico sul serio. Fece lui. Perché quando sei là fuori vorresti essere qui e quando sei qui vorresti essere là fuori. Non lasciarti prendere da questo ingranaggio. Ma tu non sai com'è. Ogni volta che sono lassù penso. Semmai ritornerò sulla terra ci resterò. Non me ne andrò più. Ma me ne vado. E credo che continuerò ad andare. E' da molto tempo che penso di diventare uno spaziale. Dissi io. Lui non mi ascoltava. Io cerco di restare qui. Sabato scorso quando sono tornato a casa ho cominciato a tentare disperatamente di rimanere. Lo ricordai nel giardino. Tutto sudato. E poi tutto quel viaggiare, quel fare, quell'ascoltare. E sapevo che l'aveva fatto per convincersi che il mare, la città e la terra e la sua famiglia erano le sole cose reali. Le sole cose belle. Ma io sapevo dove sarebbe stato quella sera. A guardare i gioielli di orione dalla nostra veranda. Promettimi che non diventerai come me. Disse. Io esitai un poco. Sta bene. Dissi. Lui mi strinse la mano. Sei un bravo ragazzo. Disse. La cena fu splendida quella sera. Mamma aveva trafficato in cucina con le mani piene di cannella e di pasta e di pentole e di tegami che tintinnavano. E adesso un grosso tacchino fumava sulla tavola con il contorno salsa di mirtilli, piselli e focaccia di zucca. In agosto, disse papà stupito, non sarei qui per la festa di ringraziamento. Già. Fiutò. Sollevò i coperchi di tutte le zuppiere e lasciò che l'aroma fumigasse il suo viso bruciato dal sole. Disse. Ah. Ogni volta. Guardò la stanza e le proprie mani. Guardò i quadri alle pareti, le sedie, la tavola, me e mamma. Si schiarì la gola. Vidi che si stava decidendo. Lilli. Sì. Mamma lo guardò attraverso la tavola che aveva preparato come una meravigliosa trappola d'argento. Una miracolosa fossa succulenta in cui, come una belva convulsa del passato caduta in uno stagno di catrame, suo marito avrebbe potuto venire finalmente imprigionato in un carcere fatto di ossa di pollo, per sempre al sicuro. Gli occhi le scintillavano. Lilli. Disse papà. Continua. Pensai disperatamente. Dillo. Presto. Di che questa volta resterai a casa davvero e non te ne andrai mai più. Dillo. In quel momento un elicottero passò scuotendo la stanza e i vetri della finestra tremarono con un suono cristallino. Papà guardò la finestra e lacerano le stelle azzurre della sera e il rosso pianeta Marte stava sorgendo a oriente. Papà guardò Marte per un minuto intero, poi tese ciecamente la mano verso di me. Passami un po' di piselli. Disse. Scusate. Disse mamma. Vado a prendere un po' di pane. E corse in cucina. Ma il pane è già in tavola. Dissi io. Papà non mi guardò mentre cominciava a mangiare. Quella notte non riuscì a dormire. Scesi alla una del mattino e il chiaro di luna era come ghiaccio sui tetti delle case e la rugiada scintillava come un campo di neve sulla nostra erba. Rimasi sulla soglia in pigiama nel vento tiepido della notte e poi capì che papà era seduto sul dondolo meccanico della terrazza e oscillava dolcemente. Potevo vedere il suo profilo inclinato all'indietro e lui guardava le stelle roteare nel cielo. I suoi occhi erano come cristalli grigi e la luna vi splendeva. Uscì e gli sedetti accanto. Ci dondolammo insieme per un po'. Alla fine io dissi. In quanti modi si può morire nello spazio. Un milione di modi. Dimane qualcuno. Le meteore ti colpiscono. L'aria esce dal razzo. O le comete ti trascinano via. Un urto. Soffocamento. Un'esplosione. La forza centrifuga. Accelerazione troppo forte o troppo scarsa. Il calore. Il freddo. Il sole. La luna. Le stelle. I pianeti. Gli asteroidi. I pianetini. Le radiazioni. E ti seppelliscono. Non ti trovano mai. E dove vai a finire? Lontano un miliardo di miglia. Tombe vaganti le chiamano. Diventi una meteora o un asteroide che vaga per sempre nello spazio. Io t'acqui. C'è una cosa. Disse lui più tardi. È rapida nello spazio la morte. È subito finito. Non indugi. Molte volte non te ne accorgi neppure. Sei morto e questo è tutto. Ci sulla porta. Papà ascoltava il canarino giallo che cantava nella sua gabbia dorata. Bene. Ho deciso. Disse. La prossima volta che tornerò a casa. Tornerò per restare. Papà. Dissi io. Dillo a tua madre quando si alzerà. Disse lui. Fai sul serio. Lui annui gravemente. Ci vedremo fra tre mesi circa. E poi uscì sulla strada. Portando l'uniforme nella scatola segreta. Fischiettando e guardando gli alti alberi verdi e cogliendo il ribes dal cespuglio di ribes mentre passava e lo gettava davanti a sé mentre si allontanava nel chiarore del primo mattino. Chiesi qualcosa a mamma quella mattina dopo che papà se n'era andato ormai da diverse ore. Papà dice che qualche volta ti comporti come se non lo vedessi o non lo sentissi. Feci. E allora lei mi spiegò tutto con calma. Quando lui se ne andò nello spazio dieci anni fa io mi dissi. È morto. O come se lo fosse. Quindi penso che sia morto. E quando lui torna a casa tre o quattro volte all'anno non è lui. È soltanto un ricordo piacevole o un sogno. E se un ricordo o un sogno si interrompe non ti fa tanto male. Così io per lo più penso che lui sia morto. Ma qualche volta... Qualche volta non riesco a impedirmelo. Preparo le focacce e lo tratto come se fosse vivo. E allora soffro. No. È meglio pensare che da dieci anni non sia più stato qui. Che non lo rivedrò più. Non mi fa soffrire tanto così. Non ha detto che la prossima volta rimarrà. Lei scosse lentamente il capo. No. È morto. Ne sono sicura. Allora tornerà a vivere. Dissi io. Dieci anni fa... Disse mamma. Ho pensato. E se muore su Venere. Allora non potremo più guardare Venere. E se muore su Marte. Non potremo più guardare Marte tutto rosso nel cielo senza desiderare di ritornare in casa e di sprangare la porta. E se morisse su Giove o su Saturno o su Nettuno nelle notti in cui quei pianeti sono alti nel cielo non vorremmo avere nulla a che vedere con le stelle. Credo di no. Dissi io. Il messaggio giunse qualche giorno dopo. Il fattorino me lo consegnò e io lo lessi sulla veranda. Il sole stava tramontando. Mamma era ritta sulla porta dietro di me. Mi guardò ripiegare il messaggio e riporlo in tasca. Mamma. Dissi. Non mi dici nulla che io non sappia già. Fece lei. Non pianse. Non era stato Marte e non era stato Venere. E non era stato Giove o Saturno che l'aveva ucciso. Non dovevamo pensare a lui ogni volta che Giove o Marte si accendevano nel cielo della sera. Era diverso. La sua nave era caduta nel sole. E il sole era grande e fulgido e spietato. Ed era sempre nel cielo e non potevi sfuggirgli. Così per molto tempo dopo la morte di mio padre, mia madre dormì di giorno e rifiutò di uscire. Facevamo colazione a mezzanotte e pranzavamo alle tre del mattino. E cenavamo nella fredda ora fioca, alle sei. Andavamo nei cinema che rimangono aperti tutta la notte e andavamo a letto all'alba. E, per molto tempo, gli unici giorni in cui uscivamo a passeggio furono i giorni in cui pioveva e non c'era il sole.